Dopo lo stop precauzionale alle vaccinazioni AstraZeneca, in seguito alla morte sospetta di un insegnante di Biela e la ripresa delle vaccinazioni venerdì dopo i controlli, e di sabato la dichiarazione di Simona Riussi, 55 anni di Garlasco, Pavia, vedova di Sandro Tognatti, l'insegnante di musica di 57 anni, morto il giorno dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino. Credo nella vaccinazione anti-covid e farò la seconda dose, ma allo stesso tempo vorrei conoscere la causa della morte di mio marito, ha dichiarato al quotidiano la provincia pavese. Nell'intervista Simona Riussi racconta che lei e il marito sono stati vaccinati nel pomeriggio di sabato 13 marzo. Io non ho avuto nemmeno una linea di febbre, mio marito durante la notte ha accusato una frebbe molto alta, sino a 39.5. La domenica mattina è poi sceso per bere il caffè con i suoi genitori che vivono vicino a noi, poi è salito in massarda a riposarsi. L'ho chiamato al cellulare ma non rispondeva. Sandra Riussi a quel punto è corso subito dal marito e ha visto che non respirava. Ha provato prima lei da sola a rianimarlo, poi con l'aiuto degli operatori del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Consiglio a tutti di vaccinarsi, l'ho già detto più volte, afferma la vedova del clarinettista, ma non sono un medico e sono un comportamento che ritengo giusto a prescindere dalla tragedia di mio marito. Mi sembra l'unico modo per vincere il Covid. Nel frattempo ieri a Biella sono arrivate le prime dosi di vaccino moderna e si è continuato con le categorie indicate dai protocolli, mentre montava la polemica sui social e sulla stampa locale per la corsa podistica Biella-Pedi-Cavallo che si è disputata domenica regolarmente pur essendo in zona rossa. La corsa, di rilevanza nazionale, aveva tutte le carte in regola per essere disputata, ma molti residenti di Biella e della Valle Cervo non è andato giù l'enorme assembramento di atleti, tutti regolarmente tesserati e controllati e perfettamente a norma, soprattutto in partenza, accanto ai giardini centrali della città, gli zumaglini con i giochi per i bambini avvolti nella triste e nella situazione davvero incomprensibile bindella rossa e bianca.